preghiera miracolosa per chiedere una grazia urgente e impossibile a maria vergine che scioglie i nodi nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen vergine maria madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati perché sono spinte dall'amore divino e della infinita misericordia che esce dal tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita tu conosci la mia disperazione il mio dolore sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani nessuno neanche il demonio può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto vergine madre con la grazia il tuo potere di intercessione presso tuo figlio gesù mio salvatore ricevi oggi questo nodo per la gloria di dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre spero in te sei l'unica consolatrice che il padre mi ha dato sei la fortezza delle mie deboli forze la ricchezza delle mie miserie la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con cristo accogli la mia richiesta preservami guidami proteggimi si il mio rifugio maria che sciogli i nodi prega per me nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen vergine maria madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati perché sono spinte dall'amore divino e della infinita misericordia che esce dal tuo cuore volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita tu conosci la mia disperazione il mio dolore sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani nessuno neanche il demonio può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto vergine madre con la grazia il tuo potere di intercessione presso tuo figlio gesù mio salvatore ricevi oggi questo nodo e per la gloria di dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre spero in te sei l'unica consolatrice che il padre mi ha dato sei la fortezza delle mie deboli forze la ricchezza delle mie miserie la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con cristo accogli la mia richiesta preservami guidami proteggimi si il mio rifugio maria che sciogli i nodi prega per me nel nome del padre e del figlio dello spirito santo amen grazie 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 grazie